L'idea sembra banale, usare delle foglie per fare del fertilizzante, un processo che madre natura usa da milioni di anni per restituire al terreno gli elementi nutritivi che la pianta gli aveva sottratto per crescere. Ma tutto cambia se la foglia è un dispositivo artificiale capace non solo di copiare le funzioni di quella naturale, ma di andare oltre. Una volta esposta alla luce del sole, la foglia bionica scompone l'acqua in idrogeno e ossigeno, poi attiva un esercito di batteri che usano l'idrogeno ottenuto dalla reazione catalitica e l'anidride carbonica presente nell'aria per fabbricare biomasse e combustibile liquido, con risultati nettamente superiori a quelli della fotosintesi naturale. Il creatore di questa promettente biomacchina è Daniel Nocera, un chimico dell'Università di Harvard che è considerato un mago del settore. I carburanti sono stati solo il primo passo, ora Nocera guarda un problema ben più esplosivo, la crisi alimentare globale che potrebbe arrivare entro il 2050 con una popolazione mondiale stimata in 9 miliardi di persone. Per questo ha creato un sistema ancora più complesso in cui dei batteri del genere Xantobacter usano l'idrogeno prodotto dalla foglia artificiale e l'anidride carbonica atmosferica per sintetizzare una sorta di bioplastica. Una volta trasferiti nel campo questi batteri continuano ad assorbire azoto dall'aria e per sostentarsi traggono energia dalla bioplastica che è sostanzialmente idrogeno immagazzinato. In questo modo rilasciano nel terreno ammoniaca, cioè sostanze azotate che sono il concime naturale per eccellenza. Dopo aver esaminato cinque cicli culturali completi, Nocera ha trovato le prove più convincenti dell'efficacia della sua foglia bionica in un mazzo di ravanelli che pesava il 150% in più rispetto agli ortaggi di controllo. La speranza è che queste foglie bioniche possano aiutare gli agricoltori dell'India o dell'Africa subsahariana a sostenere i raccolti in modo naturale, economico e soprattutto pacifico, ma dovranno crescere in fretta.